adesso bene bene sono contento sì io purtroppo ero infognato con l'alcol e la cocaina dalla cocaina purtroppo non se ne esce si crede di poterne uscire ma non se ne esce bisogna farsi aiutare innanzitutto dai familiari e poi rivolgersi a un centro competente come l'istituto di neuroscienze e mi sono rivolto a voi dopo tanti tentativi in vani da psicologi psicoterapeuti però purtroppo tentativi in vani ho trovato veramente un centro di professionisti persone serie e umili e in poco tempo io credo di esserne uscito la prima volta appuntamento farmacologica la seconda volta il professore mi ha detto di provare questa tms inizialmente non sapevo neanche cos'era tutti esami mirati che il professore decide lui quale voltaggio dare roba e fa bene io sono orinato dopo quindici sedute non tocco più alcol non tocco più cocaina in quindici giorni quindici sedute fare il professor pallante sempre sul pezzo sempre sul pezzo sul pezzo e li capì che era un genio che è un illuminato e da lì cambiò il vento il vento da ponente al levante e capì che non poteva piovere per sempre e così fu da oggi e un domani dovrà essere ricordato perché è un bene fattore e concludo con auguri e ce la farete tutti grazie al professor pallante Grazie a tutti